salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui oggi con un nuovo unboxing perché oggi vi porto l'hd pvr 60 allora partiamo innanzitutto dicendo cos'è l'hd pvr è una semplice scheda di acquisizione che serve per registrare appunto gameplay che mi servirà per registrare gameplay la particolarità di questa scheda della haupage questa nuova scheda della haupage è il fatto di registrare a 1080p fino a 60 fps di solito al momento le schede di acquisizione si fermavano tra virgolette a 1080p per 30 frame per secondo oppure 720p per 60 frame per secondo l'hd pvr 60 invece arriva 1080p per 60 frame adesso andremo a vedere l'unboxing il contenuto della confezione poi vi lascerò magari in descrizione o anche qui qualche annotazione per il link al video test che farò senza editing senza particolari modifiche ma ve lo posterò così come viene registrato direttamente dall'hd pvr una cosa che vorrei poi farvi vedere è anche il software di registrazione che è il software capture che permette appunto di regolare tutti i vari settaggi dalla appunto qualità dal punto di vista diciamo 1080p o 720p il bitrate i frame per secondo c'è la possibilità di inserire anche direttamente durante il programma di registrazione una webcam se volete eccetera eccetera ma poi lo vedremo quando andremo sulla schermata del pc per il momento vi faccio vedere un po la confezione e il contenuto della confezione nella parte frontale vediamo che è contenuto nella confezione anche un codice per un abbonamento semestrale ad xsplit xsplit è un programma che ad esempio io utilizzo per gli streaming su twitch poi c'è vabbè come vi dicevo il programma capture che servirà da software per poter registrare c'è la caratteri una caratteristica è lo skip back cioè c'è la possibilità di recuperare un tot di minuti di registrazione diciamo quando noi ancora non abbiamo registrato nel senso se voi state giocando e non avete attivato la registrazione perché magari volete registrare tra poco oppure vi siete dimenticati potete recuperare questi minuti anche se non stavate registrando come vi dicevo c'è la possibilità di inserire direttamente la facecam durante la fase di registrazione c'è la possibilità di registrare anche direttamente su il commentary e uppare direttamente il video su youtube quindi in sostanza vi potete togliere tutto quel percorso che è il rendering che si può fare con i vari programmi software poi dipende naturalmente dalla qualità che andrete a scegliere perché ad esempio io che ho una linea dsl abbastanza barbona quindi devo per forza rieditarli per diciamo abbassare un po la qualità la parte destra della confezione ci fa vedere come viene registrato il file come può essere registrato il file quindi h264 1080p 60 fps tramite l'hdmi non c'è lag diciamo quando andiamo a vedere quello che noi stiamo registrando può registrare da 1 a 16 megabit per secondo in formato ts e m2 ts i formati come potete vedere sono sì 1080p a 60 fps ma anche 1080p 30 fps 720p 60 fps eccetera eccetera quindi potete scegliere voi direttamente dal programma capture poi vengono indicati i sistemi di collegamento cioè tramite hdmi infatti ha un hdmi in e un hdmi out e i requisiti di sistema nel lato sinistro invece è indicato cosa possiamo fare con il programma capture quindi registrare editare fare upload anche editare aggiungere la registrazione con un microfono skip back cioè registra i tuoi gameplay passati appunto anche se non avevamo avviato la registrazione e come vedete adesso c'è la possibilità di inserire anche la webcam direttamente durante la registrazione quindi fa vi fa un unico file poi abbiamo il contenuto della confezione e ci va ad indicare che per aggiungere la facecam richiede un processore i5 i7 o più veloce nella parte posteriore vabbè ci sono altre indicazioni altri altre informazioni un'anteprima del programma capture ma io direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere andare a vedere cosa c'è all'interno di questo pacco allora apriamo la confezione troviamo la guida di installazione rapida con tutte le varie informazioni su come collegare installare eccetera eccetera ci dice che possiamo scaricare dal sito della opage il programma capture in modo tale da avere anche la versione più aggiornata questo qui è girato perché perché il codice dell'abbonamento per sei mesi su xsplit poi abbiamo la nostra scheda di acquisizione eccola qui è estremamente leggera anche molto semplice dal punto di vista estetico nella parte frontale vediamo il logo opage nella parte superiore metallizzata c'è il tasto per avviare la registrazione questa striscia poi si illumina in base allo stato di registrazione o meno lato sinistro pulito così come il lato destro e nella parte posteriore abbiamo l'ingresso per il cavo usb per poterlo collegare al pc l'hdmi in e l'hdmi out poi abbiamo il cavo hdmi per poter collegare il capture alla nostra console o anche al nostro pc l'altro si presume che lo abbiate già e il cavo usb per poterla collegare alimentare direttamente dal pc quindi non ha bisogno di una fonte di alimentazione esterna ma si si alimenta appunto direttamente tramite l'usb del pc e adesso allora andiamo a vedere anche il programma capture in azione siamo allora nel programma capture della opage siamo nella versione 1.0.34057 questa è la schermata principale qui abbiamo la finestra di anteprima della nostra registrazione qui possiamo andare a selezionare la periferica quindi ci dice che siamo con l'hdpvr 60 possiamo registrare sia qui cliccando sul tasto registro oppure schiacciando il pulsante fisico che si trova sulla scheda di acquisizione qui c'è lo skip back cioè la pre registrazione diciamo quello che va a memorizzare prima della nostra effettiva registrazione possiamo scegliere quanti minuti va a memorizzare la scheda di acquisizione così se magari stiamo giocando ancora non partiamo con la nostra registrazione ma succede qualcosa di epico che vorrei che vogliamo avere in registrazione possiamo recuperare questi minuti qui è stato predefinito 10 minuti possiamo aumentarlo diminuirlo eccetera eccetera qui andiamo a scegliere il nome del nostro file che può essere salvato in mp4ts m2ts qui abbiamo gli ingressi sia video che audio sono settati su hdmi possiamo aggiungere direttamente un microfono in modo tale da fare il nostro commentary direttamente sul video che viene renderizzato registrato dal pvr e così come possiamo settare sia il volume del nostro microfono che del gioco poi faremo si possono fare un po di prove per trovare appunto i volumi adatti e qui in fondo abbiamo la qualità video che può andare da 4 a 16 questa diciamo è più che sufficiente per dirvi il mio esempio calcolando che io poi andrò a renderizzare i video con un bitrate molto più basso di 16 va bene 16 diciamo non è una qualità altissima ma comunque vi posso dire che io li renderizzo a un quarto quasi più o meno un po di più purtroppo per questioni diciamo di peso del file perché non riuscirei a dupparlo con una qualità molto alta ci metterei troppo tempo quindi 16 per quanto non sia come detto una qualità e c'è e c'è il molto più alta di quella che vedete normalmente nei miei video potete poi andare su avanzate dove vi faccio vedere qualche qualche finestra qualche settaggio potete vedere la modifica che va a fare del video perché come detto voi avete ad esempio ora ho collegato l'xbox one che ha una risoluzione in ingresso che è full hd a 60 frame voi comunque se volete fare un file magari a 720p mettete che qui vi indica l'ingresso 1080p potete anche scegliere che vi registra a 720p così come il frame rate non per forza 60 ma magari potete mettere anche a 30 e poi salvare oppure lasciare il tutto su sorgente in modo tale che vi vada a registrare così come è il video della vostra console qui potete scegliere i kilobyte del dell'audio eccetera eccetera i vari qui il firmware corrente potete aggiornare anche l'hd pvr e la seconda schermata invece è quella dedicata all'editing perché come detto tramite il programma capture si può praticamente registrare tutto il video senza diciamo bypassando il passaggio di renderizzazione quindi come detto potete aggiungere il microfono e inoltre qui potete andare alle vostre registrazioni adesso magari faccio partire qualcosa non so comunque potete tagliare potete fare uno screenshot potete esportare il file in mp4 se magari lo avete renderizzato in registrato in ts e quindi editare il vostro video con tagli iniziali finali e prendendo le vostre clip nella linguetta youtube invece potete direttamente fare l'upload quindi caricare su youtube il vostro file video già registrato potete utilizzarla anche per quanto riguarda gli stream quindi come vedete la stessa schermata sostanzialmente della prima della prima pagina qui andate a vedere la qualità dello streaming in base alla vostra linea potete streamare su twitch stream o su youtube e nell'ultima schermata invece abbiamo la selezione della cartella delle registrazioni e degli screen così come scegliere il video decoding e aggiungere la facecam quindi se avete una facecam che sono collegata potete anche aggiungerla quindi spostarla poi l'andate a selezionare e vi metterà la vostra schermatina in modo tale che vi andrà praticamente a registrare il gameplay sostanzialmente completo quindi il capture il programma capture è utile tra virgolette per fare video già pronti potete schippare tranquillamente la fase di rendering che sono ore ed ore quindi potrebbe essere utile per chi magari non lo so lo trova più comodo io eventualmente lo renderizzo sempre perché aggiungo il logo metto la sigla iniziale quindi io comunque continuerò a renderizzarli però se magari non vi interessa mettere il logo non vi interessa mettere la sigla iniziale potete direttamente avere il file bello che pronto scegliete come detto il vostro bitrate in base alla qualità che volete avere questi sono i passaggi principali il bitrate la risoluzione che potete andare a modificare in base a quello che volete se volete farlo a 720p o lasciarlo a 1080p così come per quanto riguarda i frame la qualità come vi dicevo è appunto quella di poter registrare direttamente a 1080p per 60 frame che non è cosa da poco poi dipende naturalmente dalle dalla vostra connessione io purtroppo con la connessione barbona che ho non riuscirò tantissimo a far video con questa qualità ma mi piacerebbe portare ogni tanto qualche video un po più cazzuto e cattivo 1080p 60 fps magari qualche video di guida tra l'altro vi metterò a breve anche un test con la qualità massima magari ve lo farò senza rendering senza niente quindi vi farò direttamente un video così come viene dal capture e va bene quindi vi metterò in descrizione il link a fine video non so da qualche parte vi metterò questo test della page con la registrazione a 1080p per 60 frame e direi che per il con il programma capture abbiamo finito questa anteprima perfetto ragazzi quindi questo qui è l'hd pvr 60 vi ho fatto vedere un po il contenuto della confezione abbastanza semplice tutto quello inserito vi ho fatto vedere un po come funziona il programma vi faccio vedere anche un'anteprima diciamo della registrazione a 1080p a 60 frame al secondo vi lascio un'annotazione qui a schermo oppure un link in descrizione magari chi è da cellulare per darvi un'idea appunto di com'è la qualità nativa di questo hd pvr 60 che poi come detto come abbiamo visto sul software non c'è neanche la necessità di editare renderizzare quindi se sostanzialmente voi avete una linea che riesce a duppare questi video senza troppi problemi potete fare a meno anche dell'editing e del rendering intanto è venuta anche la retta a salutarci ciao la retta vuoi salutare non vuoi salutare vuoi venire qui va bene la retta si vergogna quindi non è voluta venire a salutare in camera comunque ragazzi come detto questo è l'hd pvr 60 lo vedremo in azione nei prossimi video mi piacerebbe ogni tanto portarvi qualche video con questa qualità certo al momento non posso farlo di frequente perché come dicevo purtroppo la mia linea è quella che è però per alcune clip per alcune tipologie di video mi piacerebbe riuscire a portarvi una qualità maggiore anche a 1080p per 60 frame al secondo soprattutto per determinati giochi magari come quelli di guida comunque come detto fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti vi lascio anche il link in descrizione sia della pagina del prodotto così potete vedere tutte le specifiche più nei dettagli magari anche da amazon dove ho acquistato l'hd pvr ci vediamo allora con il prossimo appuntamento un saluto a tutti da Guelta Leale